Al lavoro in campo, in sede di Calciomercato, ma non solo. Da ieri la SSD Calcio Avellino ha ufficialmente un consiglio d'amministrazione. Nominato presidente l'avvocato Claudio Mauriello, affiancato dal consigliere Alessandro Iuppa, già dirigente del gruppo Siligas, e Gianandrea De Cesare, in qualità di vicepresidente e amministratore delegato. Nella giornata di giovedì si era vociferato dell'assegnazione della carica di direttore generale a Mauriello, che formalmente, dunque, non rivestirà il ruolo, ma con il supporto di Luigi Carbone, svolgerà comunque le mansioni decisionali di raccordo ed organizzative proprie di un DG. Insomma, il cerchio dirigenziale è da ritenersi salvo colpi di scena chiuso. Mauriello si è messo subito all'opera, incontrando Mario Dell'Anno, presidente dell'Associazione per la Storia, che, come noto, è proprietaria del logo e della denominazione US. Clima disteso e cordiale, le parti si riaggiorneranno a metà della prossima settimana per procedere, una volta definite alcune questioni inerenti allo store ufficiale, dato anche il cambio di sponsor tecnico da Givova a Ioma, alla cessione, incomodato, d'uso gratuito, dello storico simbolo alla SSD. Nel contempo, al castagneto di Sturno, testi in famiglia prima del rompete le righe di fine ritiro. La ripresa è fissata per martedì, salvo problemi burocratici, al Partenio Lombardi. In campo, i centrocampisti 19 anni Buono e Tompté, che hanno convinto il tecnico Graziani, resteranno in gruppo. Già sul rettangolo di gioco, anche due classe 2000, entrambi cursori di fascia. Arriva dalla primavera del Benevento l'irpino Fabiano Parisi, da quella della Salernitana Alessandro Totaro. L'attesa è però tutta per un over in grado di spostare gli equilibri. Sotto traccia e con massimo riservo, si tratta per un colpo da 90 in attacco. L'Identikit Bomber d'esperienza, svincolato da un club di serie C in grado di infiammare la piazza.